salve a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovo video di among us ragazzi super richiesto super favorito da tutti quindi perché non giocare insieme allora noi che siamo neanche mi sono reso conto che cosa sono io vediamo se mi nascondo che secondo me non sono nemmeno un impostore allora io questo gioco ragazzi non è che l'ho capito tanto cioè noi dobbiamo sopravvivere oppure scoprire chi è l'impostore cioè il cattivo infatti qua già hanno ucciso that boy ok discussione ok neanche fa la posto ragazzi david è italiano quindi se lo invitiamo iscrivetevi nel canale in tanti che possiamo votare allora boh non lo so forse è stato questo verde boh vediamo ci prova eh tre impostori ok speriamo che non sia quello che sto pensando no non è regol verde quindi non è nemmeno mh77 non posso nemmeno nascondermi cos'è qua questa sala qua non ci sono mai venuto ragazzi vi ricordo di seguirmi su instagram che li posterò tutti tutti gli aggiornamenti su youtube ma cos'è questa benzina se lo prende che succede non lo fa prendere ok chicken neonardo davi che è successo ok ragazzi io vi terrò aggiornate sempre le storie su instagram quindi mi raccomando seguitemi ehm adesso sto sto vedendo che in giro si sta spopolando parecchio questo videogioco un videogioco che si chiama monga among us quindi perché non provarlo i miei figli mi stanno torturando papà giochiamoci giochiamoci dai ti prego ti prego ok perché no proviamolo non è che ne capisco tanto però sembra divertente allora c'è pedro chicken e m h n n 7 h ok allora aspettiamo un po che si riempie un po la stanza ok siamo in 10 iniziamo subito la partita all right all right ci siamo ragazzi silenzio silenzio ok noi non siamo impostori non siamo impostori però chi è chi è l'impostore qui ah 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 c'è chicken che sarebbe secondo me mio figlio ok qua non so cosa serve questo qua invece ok puoi vedere la mappa oh c'è una ho lì non so chi sia pedro c'è pedro qua ok qua non so cosa devo fare ragazzi da essere sincero qua c'è indica una freccia vediamo se magari riusciremo a risolvere qualche enigma report già non possiamo andare ah già c'è stata un'eccisione ok discutiamo chi sarà stato chi è il cattivo ma wow 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 ma wow wow lain ora ragazzi tutti stanno dicendo blu diciamo no ma tutti hanno detto blu quindi ho voti amolo vediamo se è vero A parte che sono io blu Forse lui non è blu, un blu scuro o un viola Non lo so Allora vediamo che succede Chi è che abbiamo cacciato? Adesso non lo so Nessuno Nessuno abbiamo cacciato fuori Tre impostori rimasti Ok Quindi attenzione qua c'è la O vicino a me Non vorrei che mi torturasse qua Altro che torturasse Mi mangia Chicken Ad andare giù Ad andare ancora più giù Questa sera qua cos'è? Eh? Cosa devo fare? Pedro o Diti? Che è successo? Sono morti? Ah 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 Oddio Quindi erano loro i tre colpevoli Ok siamo Ah c'è Allora fammi capire bene Io Raizer E chicken Pedro Diti Talaga Oh mamma mia Ce ne sono tante Facciamo un privato va? Iniziamo la partita Ok Vediamo se questa volta riusciremo a sgamare Questo Ah io non sono mai impostore qua Mai Non sono mai impostore Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Raizer stava vicino a me Mi fa un po' paura Con quel becco Qua non c'è niente Qua invece Eh lo sapevo che era lui Eh mi seguivi Ok E lui L'impostore Talaga Talaga K01 Quindi potrei parlare Non posso nemmeno parlare Giusto? No non posso nemmeno parlare Non posso dire niente ragazzi Ho perso E quindi adesso scopriremo Vediamo se riusciranno a capire chi è Purtroppo ero da solo In quel posto lì E non c'è niente da fare Che riescono a capire chi sia stato Anche l'ho cacciato a pedra No non ci credo Non è stato lui È stato quell'altro Hanno cacciato una persona senza Che non c'entrasse nulla E hanno vinto ragazzi Purtroppo hanno vinto Ok siamo in dieci Via La partita Abbia inizio Ok Tanti giocatori interessanti Qui eh Facciamo silenzio Ok Chi siamo? Non sono Mai Impostore Ok Va benissimo Allora Chi sarà Pedro? O sarà qualcun altro? Oh mio Dio Io sono l'altro Pedro Questo non so cosa serve Start Ragazzi qua non lo so che cosa serve Dobbiamo aspettare 47 secondi E qua ci muoio E qua ci muoio Ho lasciato il gioco Sì Uno col piccoletto Uno col piccoletto Che carino No la contadente Controlla le luci E dove sta? Ah qui sopra Devo andare Ok Qui vai Occio usa Occio devo fare così Ok ripristinato la luce Siamo tutti qua Guarda Qua c'è un'altra cosa Giallo Viola Rosso Viola Blu No Chi è stato? Chi è stato? Chi? È stato È stato È stato Bianco 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 Cubo 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 Chi è stato Fabio? Può essere stato Fabio No? Sì Fabio Sì È Fabio Fabio Può essere Fabio Orange È già un Abbandonato Fabio Orange Ah quindi Pedro è stato L'impostore Quindi sarà stato Pedro? Sì Guarda Tu cosa Ne pensi Allora Chi Può Essere Stato Andiamo Cosa Mi dico Pedro? Ok Allora Tutti con Pedro Tutti a Pedro È stato lui Non Si può Dire Eh sì Vedi Tre su Uno Guarda Abbiamo anche Il c'è da Pedro È stato Pedro Il colpevole Zero Impostore Abbiamo vinto Finalmente Va bene ragazzi Io vi ringrazio Per avermi seguito In questo video Se ne volete degli altri Fatemelo sapere Eh Magari Eh Posterò Come ho fatto adesso Una storia su YouTube Su Instagram E così Vi avviserò Con quale Stanza Sono dentro Niente ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Vi ricordo Siamo di iscrivervi al canale Se l'avete ancora fatto Di Attivare la campanellina Per non perdere i nuovi video E noi ci beccheremo Nel prossimo video Su Among Us Ciao